Ormai in rettilineo d'arrivo, Francesco Moser, alza le braccia al cielo nel segno del trionfo, Francesco Moser. Sabato 13 aprile, presso il Lago Primo Maggio, si è tenuta una cena organizzata dal gruppo sportivo Dino D. Lo scopo della cena è stato quello di raccogliere fondi per l'organizzazione della Coppa Ditti, giunta quest'anno alla 72esima edizione. L'evento sportivo più importante del Comune di Agliana, la corsa più antica della provincia di Pistoia, una gara diventata una classica a livello nazionale e non solo, riservata alla categoria allievi. Dalla prima edizione del 1948 ad oggi, nell'Albo d'Oro si sono iscritti atleti, poi diventati professionisti con ottimi risultati. Presenti alla serata oltre un centinaio di arti sportivi e amanti delle dorote, oltre a vari esponenti e dirigenti del mondo del ciclismo. Lo staff del gruppo sportivo Dino Ditti si è prodigato per tutta la serata, perché tutto filasse liscio, intrattenendo i vari ospiti fra una portata e l'altra. La serata si è poi conclusa con la lotteria, con ricchi premi, sempre volte a finanziare la corsa. L'appuntamento è quindi per settembre 2019 per la 72esima edizione della Coppa Dino Ditti. Vi aspettiamo numerosi!